Bene, benvenuti, facciamo un'ulteriore lezione sull'animazione ma questa volta animeremo una traslazione, cioè soltanto il cubo che va giù o che va su cosa che potrebbe essere molto utile per animare degli ascensori, ad esempio oltre che delle porte quindi la prima cosa che facciamo è di avere una finestra di animazione quindi andiamo in Animation, Windows, Window, Animation e prendiamo la finestra Ctrl 6 quindi possiamo anche fare semplicemente Ctrl 6 e vedete che si apre questa finestra, molto utile ora a questo punto, mentre è aperta quella finestra se noi clicchiamo un oggetto, vedete che compare la possibilità di creare un'animazione sul cubo e quindi bisogna creare un Animation Clip, la chiama lui Animation Clip facciamo Create quindi facciamo l'Animation Clip di questo cubo ora facciamo Classroom Visual, quindi Classroom Visual lo chiamiamo animazione verso il basso quindi Go Down che va giù l'animazione una volta costruita, vedete che è vuota va da 0 a 60 e però bisogna aggiungere qualche cosa da animare quindi noi animeremo del cubo che è selezionato gli diremo di animare fondamentalmente la Transform e la Transform la Position mentre invece le altre video che abbiamo fatto vi consentivano di animare la Rotation quindi chiamo la Position quindi abbiamo la Position e a questo punto la posizione iniziale facciamo tutto Red vedete che è diventato tutto Rosso e animiamo la posizione iniziale e poi spostiamo verso il fondo qua e gli mettiamo la posizione finale che è questa quindi abbassiamo tutto il cubo in fondo ora se funziona tutto quindi spostando questa linea vedete che dall'inizio al fondo il cubo si abbassa quindi questa è la prima animazione Go Down ora l'animazione in realtà può essere fatta su qualunque oggetto in cui gli sposta praticamente le proprietà ma noi per semplicità adesso faremo un'animazione per ogni oggetto quindi Go Down l'abbiamo fatto ora per fare l'animazione dobbiamo fare l'animazione apposta quindi per fare l'animazione apposta cosa facciamo? facciamo Go Down quindi vedete che c'è Go Down però gli diciamo Loop Time falso in modo tale che lo faccia in realtà solo una volta e ci accertiamo soltanto che l'animazione Go Down quindi questa qui adesso ce la fa vedere così ma in realtà quindi la stoppiamo cioè togliamo l'animazione e vediamo che quella è l'animazione che ci interessa prendiamo l'animazione opposta quindi facciamo CTRL D e facciamo non Go Down ma facciamo Go Up Go Up la chiamiamo Go Up che adesso è identica al Go Down quindi facciamo Go Up questa e a questo punto ci clicchiamo semplicemente il adesso tra l'altro in esecuzione vedete quindi essendo in esecuzione praticamente ci manca cioè l'oggetto esegue noi togliamo l'esecuzione escape ci spostiamo un attimo questo ok togliamo il pallino in modo tale di averlo senza senza problemi quindi se noi applichiamo su questo e gli facciamo qui abbiamo il Go Down ma noi in realtà adesso che abbiamo creato anche il Go Up dovete farsi vedere anche il Go Up facciamo Go Up ok clicchiamo qua su Go Up Go Up e vediamo che quello che succede è che noi dovremmo fare l'opposto di prima quindi in realtà dobbiamo trasferire la posizione alta in basso e la bassa in alto questo l'abbiamo visto parzialmente anche nella rotazione ma lo facciamo molto lentamente nel senso che noi cioè tratevi di avere tutto giusto selezioniamo praticamente questi due cliccando col tasto sinistro del mouse creiamo quindi una selezione e poi clicchiamo sulla zona blu e spostiamo l'indicazione facciamo la stessa cosa sulla destra e spostiamo praticamente l'animazione questa a zero e poi rifacciamo di nuovo questa che abbiamo portato a metà la rimettiamo sul frame 60 ok allora facendo così quello che succede è che l'animazione adesso mettiamola sul cubo quindi vedete sta comunque ancora scendendo quindi in realtà non l'abbiamo non l'abbiamo mosso perché probabilmente dovremmo registrare quindi registrando dobbiamo rifare il giro che abbiamo cercato di fare prima e vediamo se ci riusciamo quindi facciamo questo lavoro di inversione vedete adesso ha funzionato perché se l'è preso e spostiamo questo sul 60 ok quindi quello che succede adesso è che spostando vedete che si alta questa è l'animazione che va su quindi abbiamo fatto due animazioni una che va giù e una che va su torniamo sull'ultima animazione vedete che non c'è più l'hoop time questo è importante vediamo l'animazione go down e vedete che va bene così insomma ora a questo punto quello che è importante è che il cubo possa essere animato quindi deve avere un animator una volta che abbiamo le due animazioni distinte go down e go up dobbiamo metterle insieme per fare l'animazione del cubo quindi questa qui è l'animazione del cubo che ho fatto prima ma la cancello vedete che c'è quel simbolino lì facciamo un create animator si chiama animator controller quindi dobbiamo creare un animator controller che chiamiamo cube ok questo animator controller che sono praticamente degli stati gli stati sarebbero tipo il go down il go up quindi una volta che noi apriamo praticamente doppio click andiamo dentro il nostro animator che per il momento è vuoto quindi dobbiamo inserire le animazioni dentro questo animator e come facciamo andiamo sicuramente sul entry che sarebbe il momento iniziale dell'animazione facciamo make anzi no facciamo un create state empty quindi la prima cosa in assoluto è fare uno stato vuoto che non fa niente e poi andiamo il cubo deve andare prima giù e poi su quindi dallo stato iniziale che non fa niente gli mettiamo il go down e poi gli mettiamo il go up questi sono dallo stato vuoto devo farlo andare giù quindi facciamo una transizione che va verso il go down il go down va verso il go up in realtà simile al new state ma lo facciamo con uno evento in più uno stato in più per chiarezza facciamo la transizione verso il basso e poi il go up avrà una transizione verso l'alto quindi questo è un cubo che tendenzialmente dall'inizio può andare giù e poi può andare su e poi tornare giù insomma fare tutte queste cose allora qui dobbiamo metterci d'accordo su come fargli fare automaticamente queste transizioni queste transizioni sono tendenzialmente giuste ma dobbiamo aggiungere un parametro che dica se deve andare giù o meno quindi la lista è vuota dobbiamo creare un parametro di tipo booleano che lo chiamiamo down per dire che deve essere diventato giù che il default è vuoto cioè è false quindi diventa vuoto questo elemento allora quando down diventa vero allora deve fare la prima transizione quindi poi clicchiamo su questo oggetto nell'inspector di questa transizione vediamo che abbiamo le conditions vuote e noi aggiungiamo una conditions in cui down diventa true allora a questo punto quindi dall'inizio se per caso down diventa true si ottiene effettivamente la transizione go down per tornare su deve diventare false quindi andiamo qua nella lista delle condizioni di questa transizione gli mettiamo down che diventa false e poi nella lista di condizioni di quest'altra transizione per tornare giù gli dobbiamo mettere una conditions di down o true quindi a questo punto li controlliamo quindi down a true per diventare go down per mandarlo giù questa deve essere false per mandarlo per la nostra transizione che lo fa risalire e questa qui deve tornare true per ottenere praticamente la richiusura chiaramente si poteva anche fare un pochino più semplice togliendo questo stato e mettendo soltanto il go up qua che poi andava sul go down però per pulizia di solito si mette sempre uno stato empty iniziale ok allora questo animator però adesso deve essere associato alla nostra scena quindi deve andare sul cubo che adesso vedete che non c'è l'acqua che l'avevo creato prima quindi in origine non aveva il componente animator oppure magari se l'è creato adesso perché a volte se lo crea comunque voi se volete seguire un po' questa filosofia una volta che avete creato un animator lo dovete comunque assegnare quindi cosa fate andate sul create component e gli dite che volete creare un animator e poi nell'animator gli dite quale controller mettere e il controller che gli mettete sarà il cubo il cubo che avete chiamato con il nome cube quindi questo se avete dei dubbi potete prendere l'animazione che avete appena costruito questa e spostarla qua quindi a questo punto avete l'animazione che in teoria è giusta prima di metterla in 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 special la proviamo quindi senza il test active scene facciamo la prova con il play di unity che per le animazioni va benissimo quindi cosa facciamo facciamo andiamo sulla scena questa facciamo il play di questo quindi facciamo soltanto è soltanto un piccolo check per vedere se funzionano le animazioni quindi questo è un run diciamo di debug si fa le sue cosine ok quando finisce l'ideale è vederlo in scene lo vediamo qua l'ideale è avere aperto comunque l'animator quindi andiamo sulla finestra di animator magari vedete che la finestra di animator la stacchiamo un attimo la mettiamo volante ok qua la vediamo qua volante ok vedete che la finestra di animator in questo momento è bloccata sullo stato new state ora se abbiamo fatto tutto tutto bene cosa succede che facendo down qua ok avrebbe dovuto andare nel go down ma il go down a questo punto evidentemente è sbagliato adesso lo controllo un attimo perché non fa quello che ci aspettiamo quindi se togliamo questo vedete che fa va giù va su non fa esattamente quello che vogliamo un momento allora evidentemente era sbagliato perché se io clicco su go down vedete che se clicco il cubo e gli provo a fare l'animazione è sbagliata quindi sono invertiti questi due pivot chiamiamoli quindi noi mentre siamo nell'animazione go down questa ripetiamo in nuovo il procedimento quindi stoppiamo un attimo questa cosa qua ricordiamo di fare tutti questi lavori a play spento cioè quindi senza il blu e poi rifacciamo in nuovo quindi go down questo quindi più o meno quello che ho fatto prima rifacciamo l'inversione dei due rifacciamo anche in play questo e rispostiamo di nuovo quindi vedete che ve lo sto facendo vedere 50 volte ok poi abbiamo invertito due pivot questi e adesso riproviamo a vedere se questo cifra selezionando il cubo se il cubo praticamente scende e in effetti scende vedete che dal inizio alla fine sta scendendo ricontrolliamo il go up il go up vedete che qui in teoria dovrebbe salire invece sta scendendo quindi anche questo è invertito quindi probabilmente prima ho fatto l'operazione all'opposto quindi facciamo di nuovo l'inversione di questi cubi quindi praticamente quei sono selezionati lo mettiamo qua facciamo la selezione di questo lo mettiamo in fondo quindi li abbiamo invertiti erroneamente prima e adesso vediamo se effettivamente il ok vedete che riparte e vada giù a su che è il significato del go up quindi il go up vedete che devo sempre cosa vada giù a su perfetto quindi se facciamo questo vedete che vada giù a su se invece prendo il go down e gli faccio e verifico lo applico sempre a questo cubo qua e vedete che uff go down adesso si è invertito il nuovo ok più o meno ho giocato un po' con i parametri come prima spegniamo e riproviamo vedete che parte dall'inizio lì quindi se facciamo il play qua quindi vediamo un po' se funziona l'animazione dovremmo vedere che entra nello stato iniziale alla partenza si piega sempre un pochino ok vedete che nello stato iniziale che possiamo vederlo anche di qua ma la cosa migliore secondo me è vederlo dalla scena siamo nello stato new state quando gli facciamo il down vedete che praticamente scatta l'animazione che lo butta giù quindi vedete che va nello stato go down e poi quando a questo punto gli faccio gli tolgo questo di nuovo questo stato praticamente è tornato up e se io rimetto praticamente rimetto il coso vedete che si è scattata la transizione perché transizione scattano quando il parametro cambia di valore e quindi potete giocare ed essere più o meno tranquilli che questa cosa funziona il prossimo video vi facciamo vedere in special come si controlla questa cosa comunque nel frattempo spero che abbiate capito che possiamo animare la posizione del cubo oltre che alla rotazione quindi questa potrebbe essere una porta che si apre alzandosi invece che ruotando attorno a uno spigolo cosa che a volte in escape room potrebbe essere interessante e poi vedremo come esattamente governarla con il toggle o con un quiz o comunque con qualunque altro sistema va bene per questo video è tutto ci vediamo più tardi grazie a tutti grazie a tutti